Ciao, sono Daniele Doesn't Matter e benvenuti ad una nuova Try Not To Love Challenge Il problema principale è il trasporto, cioè come imballare queste bagge La soluzione è molto semplice, basta prendere un bel tubo di... L'episodio 105, non sono più io quello che vince Bella bro, bentornati in una nuova Try Not To Love Challenge Dopo la puntata della settimana scorsa, l'episodio speciale 104 è tutto da rifare da capo Avevo stabilito un record di 32 puntate senza ridere Ma quel record è stato distrutto e ora si comincia da zero E voi avete un compito molto semplice, ovvero quello di farmi ridere impedendovi di superare nuovamente il mio record E per farlo è molto semplice, perché vi basterà segnalarmi un video divertente sul mio subreddit che trovate nella descrizione di questo video E se io rido, perdo E voi ricevete in regalo una maglietta California personalizzata e interattiva Va bene miei piccoli pargoli, si comincia da capo, quindi lascia un like a questo video e partiamo Drawy 82, tutte le volte Piovi appena parte questa canzone, ai 30 anni Io ho una zia, una zia che sta for lì Che quando va a ballare con le mani fa così Così, così, con le mani fa così Così, così Questa per i vecchi è una pietra miliara Al di là della canzone, il video è il tecno vichingo Uno dei video più virali all'apertura di YouTube Infamous Outlaw 90 Secondo me merita un simpatichino Sarà molto difficile, perché come ho già detto non amo gli animali doppiati Mamma, so io, me apri Ho appena passato la cera, so puliti i piedi Pulito Non far furbo, fammi vedere pure quell'altro Mamato Vabbè, vabbè, sì, ma chissè, fammi capire che non c'ho gli occhiali Mamma, ma chi pochia, so Francesco, apri sto porto Ma i piedi, so puliti Ma i tagli, pulito Sì, ma fammi vedere pure quell'altro Mazza, che coglioni Fatto bene, non l'ha da dire, ma non rispecchia il mio umorismo Serevu, dai un po' di perspicace, signorina La ragazza con cui sono uscito mi chiede che ci facciamo in questa stradina buia da 15 minuti Io Succhia! 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 Ragazzo me... Simpatichino Noa Milo Si avvicina a quel periodo dell'anno È vero, tra poco è Halloween Amo questa festa Si avvicina a quel periodo dell'anno È caduta come quelle capre che si paralizzano, riguardiamolo Si avvicina a quel periodo dell'anno Bello Matteo Naso Vlog Quanti soldi ti danno? Albano si reca a San Severo e scoppia subito la lite Alt! Fermi, fermi! Purtroppo non posso farvi vedere questo video su YouTube Quindi, da questo momento, lo trovate sul mio profilo Instagram nelle stories E se non riuscite a vederlo nelle prossime 24 ore, lo trovate nelle stories in evidenza Se vuoi lasciare anche un follow su Instagram mi fai felice Cazzo Ponfo Tratto da una storia vera Io vi spalmi la crema ringiovanente di 10 anni su tuo fratello di 9 anni Oddio! Che pezzo incredibile! Io l'abbiamo fatto apposta! L'abbiamo ucciso! Tra il geniale e la vacchata LandClear 5188 Ops Oh, buongiorno Buongiorno Lei ha il permesso per tenere questa radio qui al bar? Certo Mi fa vedere, per cortesia Certo E lei ha permesso di andarsene a fanculo? No, mi scusi Eh, a fanculo, eh Buongiorno Vabbè, che cacchio Stavo solo Non sapendo che era un poliziotto Stavo solo facendo il suo lavoro Che caratteraccio Lalla Mary 95 Solenne Ma perché c'hai gli occhi così? C'ho gli occhi così perché ho anche il culo così Cioè, è aperto? Silenzio! Silenzio! Abbo 95 Sono veloce, sono veloce! Il s'appel, il s'appel Nupi Di bonjour, Nupi Il compro La potenza è nulla senza il controllo Sail 23 Ibro Ragazzi, fermi un attimo Prima di partire con questo video Tenete presente che contiene scene disgustose Se siete sensibili di stomaco, mandate avanti Io vi i tacos con i tuoi fratelli I get it to case I know it's to case Bring me over to my face You don't know what you know It's to me Do it! Do it! Do it! Do it! Non sto trattenendo la risata Sto trattenendo il vomito Prudent payment 3877 Anch'io ne voglio una Alex, partecipo per Denise Il bro non si meritava a questo Il suono che fa il 90% dell'umorismo Hated Girl Ciao, primo tentativo Buon venerdì a tutti Ma buon venerdì anche a te, Hated Girl Harry, bring me a burger and fries That's an order Harry Potter and the order of the Beh, non mi ammazza come Sophie Craig Ma è molto divertente Cielo duro 88 Non ho mai visto una persona così tanto terrorista Poverino NicoPTN Walter Hey, hey Walter 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 You're the one that walked up there by yourself No, you walked up there, you can walk back down Bitch, please Ma perché i bulldog francesi fanno sto suono tremendo? Rocco Gioienno Adattati a umori, giusto? Giusto Do, 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 rè, ra, 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 ra Shah ket announce la Ma poi la pecora che scappa nello sfondo Ma dove c'è perché Ma cos'è Ed eccoci amici Siamo giunti agli ultimi video di questo episodio Non vi nasconderò che ora sarà molto più difficile farmi ridere C'è un record da dover recuperare Matteo Naso Vlog Non voglio commentare Non voglio risultare cattivo Ma il corsivo Ah come autismo Proviamo le stesse emozioni Ciao io sono Luisa Io sono Simone Io sono la mamma Io sono il figlio Pare che io sia normodotata Pare che io sia autistico Io ho un cuore che batte Anche io ho un cuore che batte Io a volte sono felice e a volte sono triste Anche io a volte sono felice e a volte sono triste Io sto bene con gli amici Anche io sto bene con gli amici Ma allora sei come me Anche tu sei come me L'autismo cambia l'apparenza Ma non cambia la sostanza Che cazzo è successo a Fregmatano raga Strazza 96 Trickshot Nella sua testa funzionava tutto Ma il risultato è decisamente meglio Man Hurricane La risposta a cosa vuoi ascoltare Mi ha ucciso Papa Calabrese modalità on Impostare destinazione Ripetere prego Impostare destinazione Ricerca di musica e radio Io ti cercavo la tarantella Io ti cercavo la destinazione Ma questo cazzo è il mio computer Se andai il gatto Cosa vuoi ascoltare? Ecco la tua cazzo E la tecnologia va Io ti cercavo la destinazione Che cazzo mi incontrava Adesso qua Beh, beh, beh Non darei tutta la colpa alla tecnologia Terzo ultimo video di questo episodio Lorenzo 1300 E invece Quando finalmente trovi un posto tranquillo Isolato per i tuoi video Con questa canzone è veramente un capolavoro questo video Penultimo video Persone di mentalità aperta Che comprano gli insetti essiccati da mangiare Scoprono per la prima volta i grilli E quando li assaggiano Sando di paglia E ci rimani male Luke The Stone 83 Quanta è in riconoscenza? Quando cerchi di rendere il mondo un posto migliore Vabbè Neanche fumare in sovrappeso Fa benissimo E siamo giunti All'ultimo video Di questo episodio Whiteys Ciao Daniele Sono sicuro che con questo Mi avvicino al tuo umorismo Vediamo Vinaki Vivi Andiamo Vinaki Chi ha se? Sì Bene ragazzi Il video di oggi finisce qui Spero che vi siate divertiti Come sempre Come da tradizione Fatemi sapere nei commenti Con quali video siete caduti Se siete caduti Io No Questa volta ho resistito Ed è ufficialmente La prima puntata Dopo l'ultima mia caduta Senza ridere Come sempre Vi invito a lasciare un like a questo video Iscrivervi al mio canale E noi ci vediamo Venerdì prossimo Un bacione alla mamma E California California E noi ci vediamo E noi ci vediamo Ci vediamo Grazie a tutti.